Dopo il premio vinto durante lo scorso Festival di Venezia e tante polemiche sui giornali, Michelle Bonneff sbarca finalmente al cinema con Goodbye Mama, film di cui è sia regista che interprete. È un momento importante per me, è la coronazione di un sogno, riuscire a fare questo film, a comunicare a tutto il mondo che l'amore può vincere l'odio e che una madre può non essere anche una madre buona ma una madre cattiva. Nella pellicola Michelle racconta infatti del difficile rapporto con la madre più che autoritaria, che la portò addirittura a tentare il suicidio in Bulgaria, paese in cui è nata e cresciuta.